Jack si gira! Ciao, mi chiamo Duncan, ma forse mi conoscete già perché sono una specie di celebrità locale da queste parti. Sì, i fotografi mi scattano fotografie continuamente. E per via del mio charme, del mio aspetto. E per il fatto che abito in una grande casa con la sorveglianza, le telecamere e i cani da guardia. Se dovesse indicare la mia migliore qualità, direi che sono intraprendente. Sì, sono abbastanza sveglio. È stato bello chiacchierare con voi, ma ora devo scappare!